Cazzarri in terra, vado con tutto questo spazio? Minchia, un atterraggio di merda hai fatto proprio tu, eh? Vabbè, questo chi è? Per la 08 right, aspettiamo una, ma no, diamoli pure il clear to land anche a questo. Questo qui ci sei per line up and wait? Line up and wait, aspetta. Qui si fanno dei quei giri della madonna. Perfetto, contact departure. Stiamo spedendo come non so cosa, è questo che è pronto, il rullaggio, questo possiamo spedirlo al suo terminal, taxi to terminal, vai. Cazzo è successo qua? Cioè, capite? Spendi i soldi e vedi questa roba è buona. E quanti ne spendi? Perché ho costato veramente tanto, quindi per questo dico che non vale proprio tantissimo la pena. Ok, questo si è fermato là, suppongo. E' fermo, non sto facendo la curva, la sua grandissima velocità. Vabbè, vediamo il continue taxi tra un attimo. Continuo il taxi, vediamo se è attraverso la pista. E adesso stanno arrivando, vai con qualche, questo è doppio. Questo è doppio. Questo tu sei doppio? No, perfetto, pushback 0-9 right, vai. Tu sei doppio? No, perfetto, pushback 0-9 left, tello che adesso vediamo in un po' la 0-9 left. Perfetto, questo sta attraversando. Stiamo andando via come i treni, ragazzi. Ok, adesso richiedono molti di più il push and start. Perfetto, tu vai con il più effort take off. Runway niner left cleared for take off AC 5-6-4-7. Abbiamo certo il raggio di questo, magari. MD-90. Eccolo qua. Tower, delta 1-0-8-5. Runway niner right. Questo dove va? Mini 8, no. Tutti 8, cazzo, vi ho aperto anche 8L, però puoi rimandarmeli anche sull'8L, non succede niente, eh. Però vabbè. Adesso passa di qui, l'è medio 90, poi facciamo attraversare questo, intanto passa di qui anche questo che va per i cazzi suoi. Ok, la forza è medio 90, qui intanto questo contact departure, arrivederla. qui ci siamo? Allora, MD-90, taxi to terminal, e te ne vai fuori dalle palle, e tu, continue taxi, vai. Perfetto. Dopodiché, allora, andiamo qui con me la situation. Tu, clear for take off, perché mi sono rotto, via via di qui. Tu devi andare alla Mike, allora, runway alla Romeo, via, ormai lo conosciamo, Mike, anche via Tango, se vuoi. Tango, perfetto. Lo spediamo. Tu devi andare alla 09 left, quindi vai tranquillo, ti spedisco. ecco il mondo che sta arrivando, questo è il mondo che sta arrivando, non ancora, clear to line. un doppione bellissimo, ma dai, cazzo, non è possibile. Ok, quello laggiù, intanto questo qui, anche questo, clear for take off, possiamo dargliela, vai. Anche qui, ci sarebbero delle restrizioni, dovrebbero essere un po' di media, avere rotte, che non si intrecciano, ma tutte le altre varie. Però vabbè, ragazzi, un gioco simulativo, per fortuna, stiamo qui ad osservare tutte le norme, che i controllori devono osservare. Il Dice 2P 08 right, ma Dio Cristo, ma non mi puoi mettere, a 1200 piedi di differenza, due aerei che devono atterrare sulla stessa pista. Sei un coglione, avvicinamento, sei un coglione. Tu, continue taxi. Perfetto, 2 pushback, 09 left. Questo è partito, quindi, contact departure, vai. Qui c'è un bel casino, della madonna. Questo dove devo andare, ok, perfetto, quindi questo, può andare in pushback. 09 right. Questo, run, eh, carta clear, porca foia. Pushback, 09 left. Questo è clear to land. Ah, ma mia, che livelli siamo ridotti. Ok, anche questo è partito, contact departure. Adesso utilizziamo due piste, voglio vedere, li metto di tutti vicini, allo stronzo della depart, dell'avvicinamento. Adesso l'ha capito, non ho messo qualcuno sulla sinistra, eh. Il figlio qua. Tu però devi iniziare a rullarmi, altrimenti così mi fai un incidente. Taxi to terminal. Si è pronto? Qui è protetico. Ma sereno proprio. Ah no, andava dall'altra parte, mi sembra. Vabbè, la protetica sulla 9 right, ma non dovrebbe esserci problemi, comunque. Vedremo, dai. Insomma, se lo guardo da lì, continuo taxi. Weight penalty? Che capi? Eh, un capì, weight penalty. Ragazzi, non posso farci niente. Continue taxi, proviamo. Sì, esatto. Te l'ho detto che devi darmi, devi andarmi verso il terminal, che sennò mi causi un incidente. Dai, non romperai i coglioni, anche tu, eh. Perfetto, tu dovevi andare al 08, o right, non immagino, perfetto, clear to land. Questi sono di congiare l'allaggio, fatemi vedere. Perfetto, allora, runway 09 right, via Mike 2, se possibile, perfetto. Send, vai. tu devi andare qui, allora runway, eh, 09 left, perfetto, vai. Devi continuare il rullaggio, perfetto, continuo taxi. riusciamo a liberarli adesso, piano piano. Mamma mia, questo è doppio, questo è doppio, ok, pushback 09 left, vai. Chi cazza che si è scontrato? 1-183. Vieni, lo vedo qui si è scontrato, eh. questi due rincoglioni di qui, beh, questa è la loro responsabilità, è la loro responsabilità, vedere ste robe qua, eh. Vabbè, vabbè, vabbè. Ok, questo sta partendo, perfetto, perfetto. Tu che cazzo vuoi? Pushback te lo do subito, 0-9 left, poi 240 punti in meno, ma che cazzo è? Tutto il lavoro che sto facendo? Tu line up and wait? No. Tanto non immaginavo, non era accorto di aver schiacciato il tasto sbagliato. Line up and wait, ok. Tu vuoi rullare? Dove ti ho mandato? Sulla parte, ah, 0-9 right, perfetto, allora vai. 0-9 right, non è ancora pronto, però. contact departure, oddio ragazzi inizia veramente a stare stanco, semplici anche il brutto tempo, clear to land, anche il computer inizia a stare stanco, ma rivediamo se, clear to land, ok, 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 clear to take off, è pronto perfetto allora taxi da 9 left vai questo è un doppione sta rullando qual è? scusatemi ah questo qui perfetto allora perfetto perfetto oddio allora questo sono accumulato taxi to terminal vai taxi to terminal vai qui c'è pronto a rullare 09 right run way 09 right eccoci qui via tango vai stanno rullando sti rincoglioni si adesso forte a muoversi muoversi dai hop 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 far andare quelle levette dai 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 perfetto eh traffico ce n'è eh questo è decollato perfetto contact departure questo sta rullando questo non si capisce questo veramente non lo capisco qualche doppio del cazzo può darsi perché non capisco veramente questo qui questo vuole il pushback e li lo diamo 09 left vai sereno ah anche questo però aspetta andiamo senza fare troppi casini se ce la facciamo vai è una missa di no perché qua lì sta questo qua viene indietro e questo non ce la fa passare di nel frattempo a questo contact departure vai ok questo è 08 right clear to land tutta libra to taxi to terminal perfetto così sta succedendo un bel casino vediamo no forse no allora tu qui tier for take off e tu qui un attimino line up and wait perché dobbiamo un attimino aspettare questo qui li darei a runway cazzo di piste di dati io questa 9 left vai a sto punto no negative mi da perfetto forse ora l'ha capita questo pushback lo può fare 09 right vai taxi to terminal 09 right vai perfetto dai passa questo qua e faccio attraversare questo qui diamo un attimino qui fanno un po di casini laggiù vedo perfetto allora tu continui taxi tu taxi to terminal perfetto devo far così per forza tu zona da right vaffanculo vaffanculo proprio tier to land ormai te lo do no tier to land ma quello sta andando quello sta andando quello che inizia da attraversare sì perfetto ma questo non sta andando questo qui si è rincoglionito taxi to terminal vai allora questo attraversa con il taxi perfetto questo può decollare opla perfetto stanno tutti andando questo è quasi arrivato questo chiede il pushback questo chiede il pushback allora questi due pushback tutti e due 09 left e 09 right quindi questo è stato autorizzato l'atterraggio perfetto questo andrà alla 08 left spero sì perfetto qui a 2 land secco allora questo è decollato allora lo mandiamo a fanculo con la departure ok ok questi sarebbero punti al rullaggio ottimo allora rano di 09 right guardando così diretto vai questo va benissimo una 09 left ah e questo sta aspettando perfetto bene bene qui che cazzo sta succedendo un altro aerolichio aspetta adesso passa a questo ottimo mi stanno atterrando in maniera afrodisiaca vediamo questo è il continuo taxi magari per svegliarlo fuori anche questo non è stato avvisato dai contact departure vai sereno questo può decollare un attimino che altro ci manca questo che è taxi di terminal anche questo taxi di terminal devo dirgli cazzo è stato ridotto nooo portato in going around questo non è stato tutto di tutto l'atterraggio merda questo per la 08 left non ci sono problemi più tolenda prendiamo punti se vanno in going around si vanno in going around il casino che si sta creando questo line up and wait un attimino ottimo questo sto andando per i cazzi suoi allora andiamo un attimino allora questo qui taxi di terminal vai taxi di terminal delta 1324 anandled dai mamma mia che penalità che fioccano ogni tanto questo sta attraversando la pista va bene anche così che cazzo sta facendo da 70 anni runway ti mando a rullaggio 09 left vai se quello il tuo problema allora no quell'altro questo qui line up and wait questo lo mandiamo al decollo questo lo mandiamo a fanculo questo qui è sulla 08 right e facciamo atterrare clear to land quando questo devo dirgli di rullare verso il termine quindi rulli verso il termine questi stanno aspettando tutti il pushback vacca troia si pushback pista 09 right pushback 09 left va bene io comunque tutti questi punti di penalità non me li sento appollati perché stiamo facendo un ottimo lavoro secondo me ottimo proprio no però va beh questo è un'autorità di tratterraggio ottimo questo è un'autorità di tratterraggio no sempre sulla 08 right quindi aspetta questo può perfetto pushback 09 left che se qui vicino vai anche te pushback 09 left vai ok che sta rullando perfetto tutti sulla 08 r comunque bello schifo bello bello schifo dove va 9 left sempre qua line up and wait allora questo qui non capisco veramente dove deve andare runway 09 right che ho già dato il permesso cellulaggio tre volte sta di fermo non si muove questo sulla 08 right vediamo il permesso di atterrare però è sempre lì sempre quella questo sta qui come uno stoccafisso cioè c'è pure dei pesanti bang vacca troia taxi to terminal AC 5179 anche for takeoff questo qui contact departure questo è pronto a rullaggio perfetto runway 09 left vai è negativo aspettiamo allora aspettiamo sto pushback questo si è mosso si si è mosso vi do il miracolo oh allora qui possiamo dire di continuare il taxi vai continua il taxi questo che è arrestato 1737 no 1767 infatti forza da dietro c'è quell'altro taxi di termino li diciamo intanto così sta tranquillo questo me ne va sulla 08 right ottimo cioè ottimo tra virgolette ottimo proprio per un cazzo essere precisi però via to land intanto questi ci siamo perfetto runway 09 left ok anche rullano la 08 a questo della 09 attenzione quindi ah no deve essere giusto basta un continuo taxi semplice 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 questo avranno di 09 left vai mentre questo va sull'altra no no sempre sulla 09 perfetto a questa partita continua con il compagno parcer quello che ho trovato l'atterraggio perfetto così stanno tutti andando questo è pronto a rullaggio mandiamo a rullaggio se non è pronto perfetto questo clear for take off ah no 09 left anche no già è giusto è giusto perfetto perfetto questo bisogna aspettare però quello ah questo è il momento taxi to terminal il 767 clear for take off anche per te facciamo un doppio take off proprio allora vediamo un attimo questo pushback 09 right ok perfetto allora questo taxi to terminal vai e questo continuo taxi questo è sulla 08R ma vabbè possiamo dare già il kilo to land questo che cazzo fa qui pushback 09 right vai aspettiamo facciamo un doppio take off scherzone all'avvicinamento così impara a mandarci di tutti i belli attaccati questo è il pushback sulla 09 right ho già dato l'autorizzazione ma sta pushback in questo momento questo pure sta aspettando eccolo qua che parte ha un 717 carino line up and wait grazie adesso dobbiamo mandarli affanculo più due allora uno contact departure che figata eh e l'altro contact departure no cosa l'altro no perfetto perfetto allora questo run 09 via tango vai via portaco atturizzata l'atterraggio perfetto siamo a posto è stata la produzione a questo muoversi o no sì sì perché se via tango sì ok ah questo gli manca veramente ok se parte questo poi gli altri si sistemano da soli perché stanno giusto aspettando partito sì perfetto questo pushback vai tranquillo vediamo sempre la strip 09 left sì line up and wait ci sono pronti per il per il taxi perfetto run 09 right via sierra se ce la fai perfetto non disturba vado fuori dal cazzo ok stessa cosa run 09 right via sierra come ha messo la situation questo è arrivato ok dovrebbe sparire tra un attimo questo va nel cielo più blu ok questo sta arrivando ottimo ok siamo messi abbastanza bene questo ovviamente gli ci vorrà il taxi di terminal eccolo qua il resto sono messi abbastanza bene vai con questo 3-8 left non ci sono problemi no che ho portico ok questo è pronto il rullaggio allora vai parola 09 left vai eh sulla 09 left comunque c'è sempre molto traffico vediamo vediamo questo qui che è lì così su sierra adesso la passa l'aereo poi lo facciamo passare ok continue taxi and line up and wait quello ha capito continue taxi mi sa di me esatto non l'avevo proprio capito ok sto rullando questo vuole il pushback e noi lo diamo subito il pushback 09 right questo è partito contact departure questa è l'autorizzazione per la 08 left perfetto devo schiacciare però contact departure e sent ecco qua tutto si sta muovendo questo pure sta andando tutt'altra parte mamma mia che stronzi questo via mic anche questo perfetto ora continuo taxi possiamo aspettare sereni questo è il pushback si e ora li vediamo pushback internal right questo la sto facendo questa la capito di attraversare si perfetto si è una velocità tutta loro proprio però pushback anche te 09 left pushback 09 left pushback 09 right ok questo qui è pronto ok questo qui è pronto quindi clear for take allora questo è autorizzato l'atterraggio perfetto questo che ti sta 08 right anche questo aspettiamo allora quindi il resto sta andando tutto abbastanza bene mi sembra c'è qualcuno pronto a rullaggio questo questo dove sta andando laggiù porca troia questo è pronto non ancora questo è pronto non ancora questo chiede il pushback questo sarebbe pronto questo vediamo il pushback allora sulla internavalite questo è uscito quindi taxi di terminal line up and wait da questo ok oppa questo qui lo premiamo contact departure bye bye questo qui è runway 09 right via tango questo qui può continuare il taxi perfetto questo qui mi sembra ancora esatto questo è pronto questo clear for take off runway 9 right cleared for take off endeavor 3840 anche questo deve attraversare sì continue taxi questo qui è up and wait south west south west 1605 runway 8 right runway 9er left line up and wait south west 139 questo è un blocato stand non so che giro abbia fatto sinceramente taxi terminal aspettiamo un attimino allora questo 08 right esatto via to land un attimo mamma mia non capisco non capisco qua giù che casino si sta creando questo sta arrivando questo c'è quasi ok allora questo runway 09 right via tango send questo è il taxi più breve send anche a lui questo può decollarmi questo capito che devo andarmi non capito un cazzo questo perfetto bene bene che cazzo stanno facendo qua casini tra loro prima di no no non si hanno la precedente tra loro perfetto tu line up and wait come departure come departure per cazzo lo schiacciare sempre sense però eh perfetto pushback runway 09 left a te taxi to terminal ma continui il rullaggio però perfetto questo pista 08 right aspetterà 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 ci siamo perfetto sto qui non ha mica capito un cazzo però taxi to terminal vai taxi to terminal delta 1460 lo stesso diamo l'autorizzazione all'atterraggio vediamo se si sbroccano la pista in tempo tanto questo può decollare dai forza ci siamo sì perfetto perfetto qui c'è un po' ingorgato tutto ma adesso lo lo le sgorghiamo questo continui taxi questo runway 09 left vai stessa cosa per questo runway 09 right runway 08 right diamo x6 se ci riesci dai no che cazzo mi hai cliccato forza runway 09 right via runway 06 perfetto runway 09 right taxi via runway 08 right contact departure tir for take off ok forza ora ho ingorgato un po' troppo laggiù forse no mi sembra di no questo c'è questo c'è porta parti tu dove vai di così di così doversi andare di così doversi andare eh eh runway 09 left dai non sape dirti non sape dirti tu puoi tranquillamente continuare un laggio stupirla stupirla qua 08 right pista libra clear to land south west tu tu train up and wait tu taxi to terminal camion mamma mia ragazzi che che maratona che maratona che maratona ieri qui aspettano più di due pushback ora andiamo pushback dal 9 left vai ok andiamo un pochetto forza dai 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 attenzione questo momento avvisato di contattare la departure perfetto ci siamo accolata sento neanche un grosso incidente incidenti gravi non ce ne sono stati abbiamo comunque realizzato la lunga anche di punti anzi però non so effettivamente perché perché sono un po' stronchi probabilmente eh ragazzi i voli sono veramente tanti eh stai pronti al depo ahhh chiede al take off vai line up and wait ok ora si stanno disgorgando abbastanza bene questo pushback al misiro 9 left vai questo chiede il pushback vai interno da right qui non si non capito ma vediamo questo subire il pushback anche questo qui tipo il pushback vai to taxi to the terminal sta arrivando anche questo però è che crozzano questo è pronto da rullaggio, vai a rullo allora negativo non è ancora pronto probabilmente non lo so per quale motivo tu, clear for teco togliamo anche un go around, bellissimo clear for teco fa anche te, almeno andiamo a ridurre un po' i tempi delta 1 3 4 3 WP runway 8 left runway 9 to right cleared for take off delta 2 0 1 ground delta 5 5 tu sei conto a rullaggio? dai rulliamo perfetto, vai a fare dai coglioni ground delta 6 6 0 ready to taxi 100 plane cazzo direi che non abbiamo fatto servizio aeroportuale non capisco perché spettista eh va bene ragazzi direi che per questo episodio può bastare anche così per questa live è stata veramente abbastanza estenuante e dura io vi ringrazio per aver seguito la live vi ringrazio per aver seguito la live come sapere ragazzi io vi do appuntamento nei prossimi episodi nelle prossime live vi invito a seguire il canale trovate qui sotto il link in descrizione dove trovate insomma tutti i video un video al giorno circa il mio obiettivo bene o male devo riuscirci ne state adesso un po' meno però dai io vi aspetto come sempre la ragazzi allora dai ci vediamo alla prossima un cordiale saluto da Roccambolesco ragazzi ciao a tutti ciao ciao